con i cibo a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di into the 4k e oggi finalmente finalmente vi ho fatto aspettare a chi interessa vi ho fatto aspettare fin troppo per l'ultima recensione dedicata alle nuove edizioni dei film di James Cameron ovvero True Lies, Aliens con la S finale, scontro finale e The Abyss e oggi parliamo di The Abyss, film che non rivedevo, beh dal Blu-ray, no non c'è mai stato un Blu-ray quindi non rivedevo dal vecchio DVD che mi regalarono i miei amici per il mio diciottesimo compleanno pensate un po', ero andato a vedere anche il Grinch quella sera, ero ubriaco perso, non mi ricordo niente del Grinch comunque in pizzeria un botto di vino e birra, un botto, me lo ricordo ancora adesso che mi accompagnavo, Moreno ti sedi qua eh? Sì guardiamo il Grinch, va bene? comunque mi regalarono il DVD della Special Edition che era uscita nel 93, la Special Edition con più pezzi all'interno del film e il finale che era sempre stato nella mente di James Cameron e che aveva proiettato prima dell'uscita al cinema ma poi non aveva concluso gli effetti speciali e aveva tagliato quella parte finale e anche tante altre parti del film per accorciare un po' la durata del film, quindi The Abyss diciamo che dal mio diciottesimo compleanno che non lo riguardo che non lo riguardavo e adesso ho 41 anni, abbiamo saltato l'edizione in Blu-ray, 1080p anche se in teoria si vociferava che doveva uscire ai tempi ma poi non fu mai fatta e adesso ai miei 41 anni abbiamo l'edizione 4K, brevemente sul film non voglio fare di nuovo una recensione di mezz'ora come True Lies, non voglio farla, comunque The Abyss è un bel film, è un gran bel film anche se riguardandolo la versione lunga per quanto sia sempre la mia preferita, la versione lunga non è una brutta parola dire soporifera, però si prende i suoi tempi e sicuramente devi guardarla non dopo che sei tornato da lavoro, che sei un po' stanchino, devi guardarla che sei bello carico entri nel mood, te lo godi, ti godi il set tutto fatto in questa ex centrale nucleare e l'avevano trasformata a mo' di piscina con il set all'interno, Cameron ha anche fatto per questo film e lui rivoluziona sempre qualcosa nel mondo del cinema, aveva creato ovviamente con il suo team con un altro, adesso lo nomina negli extra e non me lo ricordo, comunque un sistema di illuminazione proprio per illuminare un set subacqueo al buio e anche il sistema di comunicazione tra i caschi tra i caschetti, tra i sommozzatori per comunicare come fare le riprese comunque rivoluzionario anche questo film, effetti speciali dell'industria Light & Magic e colonna sonora di Alan Silvestri, che io non me la ricordavo che era solo la colonna sonora o uno pensa sempre a Ritorno al Futuro, quando c'è il tema, il pericolo, Michael Biehn che vai fuori di testa e Ritorno al Futuro, cioè Alan Silvestri è sempre Ritorno al Futuro comunque un film piacevolissimo da vedere, che io ho visto nella sua versione lunga è la mia preferita, nonostante bella lunghetta, è la mia preferita quindi se non avete ancora visto The Abyss, però io ho ancora la mia edizione DVD e so che qualcuno di voi ha anche l'edizione Laserdisc, che era uscita in America sia per l'edizione normale, theatrical e anche la special edition e già lì aveva corretto qualcosa, anche ho visto la back cover del Laserdisc aveva corretto i colori, insomma aveva già fatto qualcosa ai tempi peccato non avesse l'intelligenza artificiale ai tempi peccato perché magari avrebbe già spinto lì comunque The Abyss, bel film, recuperatelo, sta anche su Disney Plus adesso con il nuovo Master, qui all'interno c'è anche il 1080p sempre col nuovo Master, quindi direi di iniziare a borbottare sul video ma neanche così tanto, quindi video pellicola 35 mm, Super 35 quindi quadrata e poi ha messo il mascherino per il formato che è l'inquadratura che voleva lui comunque in Super 35 esattamente come True Lies allora, comparison di Master vecchi eccetera eccetera so che girava sulla rete, so, gira sulla rete prima dell'uscita di questo 4K c'era una versione scalata da quel Master a 4K con filtri eccetera io ne vedi un pezzettino e comunque girava una versione 1080p non ricordo se era interlacciata insomma c'era una versione 1080p che girava ma, ma, guardiamo cosa abbiamo in casa noi abbiamo il DVD noi abbiamo il DVD ci sono tutti gli screenshot del DVD vecchio con queste 4K insomma poi abbiamo il disco abbiamo visto il disco adesso quindi arriviamo dal DVD noi arriviamo dal DVD con lingua italiana all'interno dal DVD il salto è non incredibile e oltre però sapete che c'è l'intelligenza artificiale quindi saltiamo subito al mio parere su questa remasterzione con intelligenza artificiale e sinceramente quello che sembra più un film normale dei 3 di Cameron Aliens e True Lies è quello che sembra più un film cioè un ottimo film in 4K preso da pellicola come tanti altri certo che per esempio l'inizio nel sottomarino poi con Dolby Vision quel grading del sottomarino tutto rosso è una fottuta meraviglia tutte le lucette all'interno del sottomarino ma anche i close up del capitano cioè wow wow ci sono proprio certe scene certe inquadrature ma anche quando si muove sott'acqua la base cioè ci sono davvero delle inquadrature che sono wow 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 quindi per me la pellicola era già messa bene era già messo bene certo che la grana se n'è andata con intelligenza artificiale l'hanno tolta hanno esaltato un pochino il dettaglio ed è quello che rende il tutto ma di ma ve lo dico dei 3 di Cameron questi nuovi 3 è quello che sembra più naturale proprio da pellicola anche se alla fine sembra un film nuovo tanti film su pellicola come ho già detto sembrano film nuovi quando escono in 4k presi dal negativo restaurati quindi tanti lo sembrano già film nuovi se il materiale d'origine era perfetto immacolato restaurato da paura questo l'hanno scannerizzato buttato con intelligenza artificiale sotto la park road di Peter Jackson e ci sono sì momenti un po' mmm c'è una scena in cui Mary Elizabeth Mastrantonio Ed Ed Harris parlano nella cabina lei illuminata di rosso cioè lei non è neanche tanto distante qua nella ripresa lui è qui vedi Elizabeth Mastrantonio mmm che cosa mmm liscia morbida mmm innaturale non c'è anche un'altra ripresa dove c'è la piscinona entrano a parlare mmm c'è qualcosa distra mmm che cosa succede però per il resto del film insomma se il film è 100% io dico che un 80% del film io non posso dire niente sì sembra un film nuovo il grading a me è piaciuto un sacco anche se nel grading rispetto al DVD vecchio quelle tonalità di pelle sono tutte al freddino non tutte le scene non tutte le scene quando ci sono lì militari comandati da Michael Biehn sono lì che preparano tutte le loro armi eccetera per andare sott'acqua insomma la pelle è rosa la carnagione come la mia no è rosa però per esempio in altre scene anche quando parlano davanti ai monitor o quando si risveglia Mary Elizabeth Mastrantonio con Ed Harris sopra di lei non fanno niente se è solo risvegliata normalmente ok non gli fa niente Ed Harris nel DVD vecchio era rosa capelli marroni cuscino letto color crema bianco qui è tutto bluastro verdino proprio la pelle come se ci fosse la luce bluastra che sia giusto così che era roba che non erano riusciti a tirare fuori i tempi o magari quello era l'inter positivo questo dal negativo originale c'era qualcosa in più l'hanno aggiunto loro con questo nuovo grading questa tonalità blu non è tutto il film così però diciamo che è un po' più sul verdino bluino è un po' innaturato a certi visi non sono tutti blu fa un po' strano fa un po' strano però il grading assolutamente a mio avviso non è da buttare via però sì alla fine il film sembra una produzione di oggi poi esaltazione del dettaglio a quella che poi dipende sempre quanto è stata usata questa esaltazione del dettaglio e non è edge enhancement è proprio una cosa che analizza il dettaglio presente nell'immagine e lo rifinisce e lo esalta insomma se usato bene può anche fare del bene per esaltare un pochino ovviamente il dettaglio ogni tanto qua però vedi che ci sono proprio dei primi piani della faccia che ok dici oh mio dio ma ti chiedi anche ma è giusto che io dica oh mio dio cioè è giusto che sia così mi immaginavo nitido ma così così fatto sta che certe inquadrature certi primi piani sono davvero fantastici anche il livello del nero è buonissimo quando guardano sotto nella profondità quando ci sono non so se spoilerare o no per chi non ha visto il film comunque quando c'è quella luce viola chiamiamo la luce viola che fluttua nell'acqua cazzarone è bello quando c'è l'effetto ottico vedi che togliendo la grana anche se erano stati fatti in vista vision alcuni effetti speciali e in 70 mm poi portato tutto a 35 mm l'effetto ottico ogni tanto è più morbidino e non regge tanto il passare del tempo però alla fine The Abyss come si vede in 4k è la versione migliore cazzo arriviamo dal DVD arriviamo dal DVD e sicuramente come il film come avrebbe lavorato un'altra casa la Sony che ne so una Warner sui film magari dell'89 come questo magari no anche quella pulizia della grana che ogni tanto te ne accorgi rimane ma chissà cioè chissà e la butto lì chissà davvero se è la grana che era presente nella pellicola o chissà se dopo aver pulito tutto ha detto per dare un pelino di organicità un pelino proprio applichiamogli una grana digitale sopra no chi lo sa cioè ragazzi chi lo sa insomma chi lo sa e chi lo sa se con altre produzioni ci hanno già fregato noi non lo sappiamo che hanno usato l'intelligenza artificiale e l'hanno fatto sto lavoro cioè chi lo sa no chi lo sa io spero di no chi lo sa però The Abyss per me dei tre è quello da comprare come video rimane questa sensazione di strano ogni tanto ma è il film a mio avviso più naturale dei tre capitoli quello forse più naturale come immagine però si vede alla fine si vede bene a parte l'inquadratura alla fine faccio solo il gesto uno spoiler cioè quella era già brutta nel DVD e qua è cioè da dove cacchio l'ampre cioè ai tempi come wow brutto proprio brutte vedi che hanno ridotto la grana ci sono è una roba orribile quando è veramente orribile alla fine solo quel pezzo sono 3-4 secondi veramente orribile però anche quando il finale escono dal senza mettere indicazioni sulla scena escono dal cazzarola tutta l'acqua per te cioè wow cioè il dettaglio wow ma anche quando vanno in esplorazione che perde il contatto con Head Harris tra l'altro rimane lì da solo il casco la quetta il sudore cioè cosa sta succedendo oh è bello e beh a me è piaciuto di Abyss questo così a me è piaciuto vederlo così di Abyss non mi ha fatto straniare tanto come True Lies che un pochino difendo ancora pensando a come la pensa Cameron per rendere un prodotto nuovo vecchio ma nuovo per il pubblico di oggi sui televisori di oggi sui proiettori di oggi per me la pensa così Cameron e io continuerò a pensarla così che ha voluto svecchiare in certi casi fino allo sfinimento come True Lies un film vecchio proprio perché non si capisse più che arrivava da pellicola ma i suoi momenti li ha di dettaglio e io continuo a dirlo nonostante sia strano ragazzi è strano vedere True Lies così ma di Abyss è quello che proprio se non avessero detto niente sull'intelligenza artificiale moltissimi avrebbero detto cazzarola che restauro cioè era davvero così la pellicola wow wow io la penso così ragazzi la penso così però per me di Abyss è valido per me è valido di Abyss ma passiamo all'audio audio italiano Dolby Digital 5.1 niente DTS niente saltini in avanti cosa avevamo nel DVD 5.1 beh gli lasciamo quello 5.1 che funziona bene mi sono rivisto vari pezzi tranquilli dove parlo ne basta dove nella tracciata in inglese sentivo delle gocce d'acqua scendere o anche quando arrivano questo film mi ha fatto ricordare i temi di Windows se vi ricordate scaricavi i temi di Windows e applicavano i suoni del film o del tema che scaricavate voi che ne so anche quello che volevate voi di Abyss cioè via via Windows che era il rumore del portellone quando lo aprivano oppure quando passava quella cosa là quando svuotavi il cestino forse svuotavi il cestino che era il film di quella cosa là non spoilerò che c'è nel film mi ha fatto ripensare a quello e da lì altri temi di Windows cioè ne avevo un botto poi Duke Nukem con tutti i suoni nel gioco che belli temi di Windows che belli che belli 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 e vabbè finito anche quel periodo comunque mi sono riguardato tanti pezzi anche quando inseguono Michael Biehn o quando crolla la torre di comunicazione da sopra che poi gli casca in testa il Dolby Digital 5.1 si lascia assolutamente sentire assolutamente sentire è un po' più opaca la voce ma è meno opaca nelle parti del ridoppiaggio con le stesse voce adesso non ho visto tutto il film in italiano quindi quelle parti non mi ricordo se tutti i doppiatori originali erano tornati per doppiare ogni singolo personaggio nel film comunque Ed Harris è lui Mary Elizabeth Mastrantonio è lei l'altro quello che viene è lui cioè sentendo i pezzi era lui e quindi c'è un saltino con le parti doppiate all'epoca per fare il DVD della special edition e si sente che sono passati anni la qualità è diversa ed è più chiara la voce e sembra più piatta nel film sembra più piatto il messaggio poi gli effetti surround in certe scene dove parlano eccetera ci sono cioè il suono è bello però è un po' più chiaro rispetto alle parti della cinematografica che dura 20 e qualcosa meno 25 minuti in meno 20 e qualcosa minuti in meno le parti nuove cioè nuove per i tempi quando hanno ridoppiato magari microfoni diversi ma proprio dall'analogico qui in digitale insomma che cosa hanno fatto ha una resa diversa quindi guardando il film si sente un po' più strano la voce nuova nelle parti con gli stessi doppiatori ma nelle parti ridoppiate nuove si sente più chiaro più limpido quindi ti dici ma perché non può essere così avrebbero dovuto ridoppiare tutto il film no? ai tempi quindi qualità diverse per questi pezzi la traccia Atmos la traccia Atmos ragazzi vince sì avrei sperato un po' più di frequenze basse di subwoofer un pochino di più però si sente benissimo quando c'è quella cosa che gira cioè ci sono delle parti ottime poi dura quasi tre ore insomma in tre ore di momenti interessanti ce ne sono quando c'è la tempesta sopra che crolla la torre cioè bello poi le bollicine quando nuotano di roba da sopra non ce n'è tantissima non ce n'è tantissima proprio di momenti distintivi che dici oh c'è qualcosa sopra però il suono già nel multicanale sotto si sente bene anche come qualità di voce nel centrale proprio di effetti sonori quando poggiano una chiave tin tan tan cioè l'hanno ripulito a bestia l'audio inglese si sente a mio avviso molto molto bene non tanto per quantità di roba da sopra o effetti ma proprio per qualità sonora molto chiara molto limpida a me è piaciuta a me è piaciuta molto poi la musica di adan silvestri pompa bene pompa bene un po' più di subwoofer in certi punti quando aprono il portone cinci qualcosa di più si poteva fare come passi però è un bell'atmos va bene così a mio avviso va bene così va bene per il film assolutamente vorrei citare altri due momentini ma in zona spoiler quindi non dico niente ma passiamo agli extra all'interno del terzo disco un, deux, trois il terzo disco c'è anche la versione 1080p che è sempre da un nuovo master il film ed è un po' più morbidino rispetto all'altro e si nota anche di meno quella granetta vera granetta finta fina 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 c'è ancora meno quasi completamente sparita nel 1080p e è un po' più finto il 1080p il mio consiglio è guardarlo in 4k tra i due tra i due 4k assolutamente è un po' più meno finto con questa intelligenza artificiale questa ripulitura di video è meno finto ma l'ho detto anche già per gli altri due film di Cameron comunque gli extra ci sono due interviste a Cameron e la seconda c'è anche Gail and Hurd che parla insomma di 30 quasi 40 minuti la prima e 28 la seconda insomma per quasi un'oretta sentite Cameron che bella racconta è entusiasta ancora oggi del film è bello bei contenuti nuovi vi consiglio l'acquisto anche per questi contenuti nuovi poi c'è il documentario che era già presente nel DVD Into the Abyss come cazzo che si chiama? sotto pressione Under Pressure il making of the Abyss che vi consiglio anche quello perché tutti i pezzi d'archivio proprio di pezzi presi durante la lavorazione del film è un signor documentario vecchio in SD ma è un signor documentario e poi tante tante galleri che erano già presenti nel DVD con foto pezzi di sceneggiatura storyboard altro ancora un sacco di galleri ma proprio un sacco quindi consiglio di Abyss l'ho già detto consiglio assolutamente sì l'acquisto di The Abyss la traccia italiana è decente anche se sono tre film diversi però come qualità dei tre film di Cameron in 4K per me il migliore è True Lies in DTS italiano quella è la traccia audio migliore poi direi direi che Aliens e The Abyss se la giocano lì forse The Abyss e poi Aliens scontro finale come traccia Atmos per me sono belle tutte e tre dei tre film di Cameron assolutamente lo dico tante volte assolutamente anche tante parole mi ripeto abbastanza nei video quando mi monto dico ma perché dico queste parole così tante volte ma perché non lo so neanche io comunque acquisto consigliato sì sì se vi va di vederlo in Atmos ha la marcia in più cioè ha proprio una bella qualità audio se volete una marcia in più se no anche in italiano è una buonissima traccia almeno lo sentite in italiano non vi cervellate tanto anche se il doppiaggio italiano modifica qualche cosa ho visto un po' di esempi nella rete e modifica un bel po' di frasi però se l'avete sempre visto in italiano non penso che ci facciate se andate proprio a cercare il pelo nell'uovo che ci facciate caso io l'ho visto in inglese l'avevo già visto in italiani tempi ho rivisto vari pezzi in italiano parliamo di qualità audio di qualità di doppiaggio ne parlano altri altri hanno altre passioni su un film per me audio e video principalmente e io ve lo consiglio dei tre di Cameron come audio e video e anche extra è quello che vi consiglio di più è quello che vi consiglio di più di Abyss di queste tre uscite ma direi di chiudere qui questo video sono davvero arriviamo a mezz'ora e non voglio arrivare a mezz'ora penso di aver detto tutto penso di aver detto come la penso e adesso registrerò anche un videino su cosa penso di questa intelligenza artificiale su questi tre lavori di Cameron un video extra che uscirà extra dieci minuti facciamo una chiacchierata così quindi noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Into the Port grazie a tutti un abbraccio a tutti e andiamo giù in fondo al mare con James Cameron James Cameron come dicevano in South Park James Cameron che bella quella puntata di South Park con James Cameron fantastica sayonara a tutti e bye bye ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti